Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla A26 Genova Voltri Gravellona-Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, con orario fra le 22 e le 6, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la D08 di Ramazione Gallarate-Gattico e Arona, verso Gravellona-Toce. In alternativa, chi percorre la A26 da Genova verso Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la D08 di Ramazione Gallarate-Gattico e Arona, verso Gravellona-Toce. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.